Come si comporterà il gruppo consigliare del PDL al Comune di Arezzo? Il gruppo consigliare si comporta sempre bene, come deve. Rispetto alle questioni romane non sono all'ordine del giorno nel gruppo. Abbiamo fatto una preconsigliare negli scorsi giorni. Siamo un gruppo che ha deciso di rimanere compatto sulle cose aretine e meno attento alle cose romane. A Arezzo c'è bisogno di un'opposizione di centrodestra forte che se di Fisa non muterebbe il giudizio negativo sull'amministrazione Fanfani ma renderebbe soltanto più debole la voce per farla sentire e per prospettare un'alternativa. Stamattina abbiamo presentato congiuntamente un'interrogazione sull'ipotesi di statalizzazione comparsa sui media in questi giorni di due importanti scuole comunali, l'Acropoli e il Pallanca. Purtroppo abbiamo verificato per l'ennesima volta l'impreparazione di questa giunta, la mancanza di progettualità, il vivere la giornata, cosa che gli arettini non si possono più permettere. Ci vuole una giunta che decida poche cose ma le decida con una progettualità confrontandosi con Arezzo. Quindi questa unità è proprio per rendere più forte anche poi l'azione in Consiglio Comunale? Assolutamente sì. Tenendo presente una cosa, che noi siamo nella regione in cui solo i consiglieri comunali vengono eletti con il voto di preferenza. Dalle provinciali in su sono nominati, cooptati dai partiti o al massimo attraverso selezioni come le primarie che comunque non sono paragonabili alla democraticità del voto di preferenza. Noi teniamo fede a quei voti che abbiamo preso di tante persone che hanno scritto il cognome sulla scheda e a quelli ci rivolgiamo. Le questioni romane le lasciamo ad altre e ce le porremo quando sarà il momento. C'è un'opposizione, un centro-destra compatto rispetto a una città, ahimè, sempre più bisognosa di un'alternativa a questo immobilismo della sinistra.